E si intitola La metamorfosi della camorra, la nuova fiction diretta da Michele Cuciniello che vede fra i protagonisti l'attore novese Giobatta Lazzagna. Lo ha incontrato per noi Maurizio Silvestri nei suoi tre minuti con... Allora, tre minuti qui a Novi Ligure, io quando faccio questi minuti seduti a tavolino con un buon caffè è la cosa migliore, però ho vicino qui un artista, un attore diciamo. Tu sei? Giovanni Lazzagna, in arte è Giobatta Lazzagna. Questo film parla quindi di mafia, è un film poliziesco, tu che parte fai? Io praticamente faccio la parte di un poliziotto non corrotto che va a contrastare tutto quello che riguarda la criminalità campana, quindi camorra, il sistema e quant'altro e cerchiamo anche come enti di portare un po' sulla buona strada i ragazzi giovani che purtroppo vengono fatti su da questo sistema che è molto conosciuto giù perché non ci sono strutture adeguate per portare i ragazzi a fare qualcosa di diverso. È vero, è vero. Tu sai che quando uno fa l'artista, fa l'attore, deve entrare un po' nel personaggio. Come ti sei immedesimato nel personaggio? Praticamente vedo, con chi ho girato, vedevo il male nei suoi occhi quindi mi sono immedesimato molto bene nella parte, come dice il regista ci sono poi vari pezzi di azione, ci sono anche vari pezzi di consulenza con i miei capi, con il magistrato praticamente dovrebbe uscire una bella cosa. Quindi diciamo non film ma fiction, una fiction che porterà lo spettatore all'interno di questa purtroppo brutta mafia e farà capire bene o male che non solo ci sono anche nella polizia i corotti ma anche i poliziotti come si deve. Sì, infatti io sono amico nella fiction di un sindaco corrotto purtroppo e io sto indagando su vari appalti, non posso dire più di tanto. Ci levi tutta la sorpresa, però il titolo lo sai già? Il titolo è La metamorfosi della camorra. Il regista è Michele Gucci Cuciniello. L'obiettivo di questa fiction è cercare di portare sulla buona strada facendo vedere delle cose che purtroppo succedono. Una fiction molto importante, quindi io spero veramente tanta fortuna e con voi ci vediamo nei prossimi tre minuti e quando si parla di bar mi prendo un buon caffè. Ciao! E dopo l'intervista all'attore novese Giobatta Lasagna andiamo a Tortona dove la musica sacra di Respiro Mondiale ha fatto tappa.